Buongiorno? Sì. Salve signore, buongiorno, io sono Elena e la chiamo per conto di Forex. Lei ha sentito parlare di Forex? Forex Gump. Si tratta di investimenti online, su valute, merci e indizionari. Ha una chiamata a livello informativo, signore. Uso, lei ce l'ha un computer, naviga ogni tanto, giusto? Quasi mai. No, quanto ha tempo libero potrà vedere anche il sito, per questo le ho chiesto. Allora, giusto per dare il nome del sito anche una informazione in più, gentilmente posso passare in linea diretta il nostro consulente che si occupa di dare la informazione completa, solo che ha una idea e alla fine decida lei. No, perché non c'ho niente da investire, signora. C'ho i debiti. Sì, ma se prendi una informazione non hai niente a che perdere. Ma non mi interessa, come prendo un'informazione per andare a comprare una macchina che non ce l'ho patente, che cazzo me ne faccio una macchina? Sai, ma che signora non ha bisogno di aiutare? Ho capito che cazzo di esempio è, ti dico che non c'ho i soldi a investire, mi dici, ma ascolta e basta. Che cazzo ascolto a fare? Alla fine la gente potrebbe prendere una informazione anche per quello che fa. Sì, ho capito, mi può parlare anche dei Tampax, ma non ho le mestruazioni, signora. Cioè, adesso posso sentire come funziona un Tampax, ma se non c'ho la mestruazione la potrebbero infine nel culo. Cioè, capito? La ringrazio. Ciao. Ciao.